laudetur jesus christus cari amici tele radio ascoltatori e pierluigi bianchi cagliesi vi parla oggi 18 dicembre 2021 per il nostro commento del giorno l'11 dicembre del 2001 la cina entrò nell'organizzazione mondiale del commercio voluto a quell'epoca da clinton che si illuse in questa operazione folle che ha causato poi un disastro inimmaginabile che oggi vediamo pensava di poter controllare la cina e di poter sfruttare tutta una situazione a proprio vantaggio ma quelli che sono i fatti ormai evidenti sotto gli occhi di tutti sono che l'ex impero celeste ha di fatto capovolto le carte in tavola e ha diciamo ridotto in realtà la situazione dell'europa e degli stati uniti in una trascinandola in una crisi gravissima che oggi possiamo vedere in maniera con in maniera veramente preoccupante e a tale proposito due date sono fondamentali proprio per la storia di quanto è accaduto in questi ultimi vent'anni è tutto parte il 15 agosto del 1971 cioè il giorno in cui richard nixon decise che il dollaro non doveva più essere ancorato all'oro e questo con conseguenti svalutazioni continue del biglietto verde e in più in generale delle monete poi arriviamo all'11 dicembre 2001 il giorno in cui la cina entra nell'organizzazione mondiale del commercio e se il primo avvenimento ha sancito di fatto il dominio della finanza sull'economia reale il secondo ha stabilito la crisi della manifattura occidentale del lavoro perché fu proprio bill clinton a spingere per l'ingresso di pechino dentro un'organizzazione mondiale che può sembrare insignificante ma che in realtà ha permesso ai vari membri di scambiare merci senza pagare dazi rilevanti quindi questo è stato di fatto un autogol pazzesco per l'europa e per l'america eppure l'allora presidente democratico degli stati uniti dopo un viaggio che fece nel 1998 nell'ex celeste impero fece pressione per aprire la porta ai comunisti cinesi e da lì cari amici l'inizio di una vera e propria catastrofe di cui oggi noi stiamo semplicemente constatando i disastri più profondi i problemi più grandi che stanno emergendo e immaginatevi l'entusiasmo della cina che aderì con grande gioia e con felicità salvo poi non rispettare alcuna norma perché non ha mai seguito politiche di mercato anzi gli stranieri non possono operare liberamente nella terra del dragone perché serve sempre una partnership con una società cinese pubblica quindi nessuna azienda può pensare di agire autonomamente in cina se non si ancora a un sistema che vede l'entrata in campo di società e di diciamo gruppi locali quindi questo poi in un contesto in cui il regime cinese continua a drogare l'economia con sussidi statali quindi nessuna azione è stata intrepresa poi contro i furti di tecnologie che venivano naturalmente carpite con tutti i sistemi più subdoli ai danni e l'occidente poi l'espansione commerciale è diventato qualche cosa di inimmaginabile ed imprevedibile in cui gli investitori che acquisiscono società in europa o negli stati uniti solitamente hanno scopi politici come rilevò molto chiaramente poco prima della fine del suo mandato il presidente trump quando inaspri questa situazione di conflitto nei confronti della cina proprio a causa di queste società presenti negli stati uniti che operavano per interessi del partito del governo cinese ai danni degli stati uniti però gli stati uniti hanno capito molto tardi cioè l'hanno capito soltanto quando è arrivato il governo per la prima volta trump che ha capito che quello che stava accadendo delle drammatiche conseguenze di quello che si sarebbe determinato e di come gli stati uniti sono stati ingannati diciamo tra virgolette ingannati perché non erano così stupidi è stato uno dei tanti giochi macchiavellici demenziali in cui gli stati uniti hanno non solo causato una catastrofe al loro stesso sistema ma hanno fatto precipitare l'intera europa in operazione senza ritorno e quindi anche la germania comincia adesso ad ammettere che quest'asse privilegiato di berlino con pechino ha favorito più i cinesi che i tedeschi che adesso in questo momento si trovano alle prese con una reindustrializzazione e con scarse materie prime che sono state tutte delocalizzate in asia eppure vedete agli inizi del millennio era quasi evitato mettere in discussione tutte queste aperture la cina vi ricorderete come anche da noi in italia in europa si parlava di questa apertura nei confronti della cina come il paradiso terrestre la meraviglia degli imprenditori che delocalizzavano che facevano affari d'oro che sfruttavano la mano d'opera quasi costi da da schiavi no eppure tutto andava bene nessuno sollevava delle critiche nessuno si permetteva di dire nulla mentre veniva liquidato il patrimonio economico nel nostro paese confindustria cari amici e persino esponenti della destra italiana spingevano spingevano per andare a produrre in asia però di allora sosteneva che avremmo dovuto diventare il porto dei cinesi in europa e il risultato finale fu che il pil cinese è cresciuto di dieci volte in vent'anni noi per fare un esempio siamo rimasti fermi al 2000 anche a causa dell'introduzione nell'euro quindi c'è stata tutta un'azione di incentivazione proprio con motivazioni di ogni genere per spingere sempre di più le aziende a delocalizzare e questo mandando in fumo milioni di posti di lavoro in america e in europa abbiamo perso tante piccole e medie aziende abbiamo perso professionalità abbiamo perso mestieri le nostre proprio peculiarità i nostri saperi che sono improvvisamente evaporati ma la colpa è nostra è anche nostra perché abbiamo creduto che spendere meno per una maglia un oggetto informatico ci rendesse più ricchi mentre invece ogni giorno chiudevano artigiani commercianti attività storiche che sono che si sono diciamo dissolte improvvisamente nel nulla e non ci accorgevamo che specie la provincia si stava spopolando di attività di socialità e proprio fu trampe vedete che cinque anni fa è stato il primo e questo occorre riconoscerlo a livello mondiale a dire le cose come stavano cioè che i cinesi bravi loro ci hanno fregato e tutti i liberal progressisti invece di spingere affinché pechino chiedesse scusa e si mettesse in regola hanno invece accusato donald trump abbiamo visto quello che è accaduto semplicemente col covid e abbiamo visto anche cari amici questo gioco di complicità perverso dove ci sta portando e adesso la domanda è che si fa purtroppo non si vede una soluzione all'orizzonte viviamo invece in una nuova guerra fredda una guerra economico industriale in cui il presidente cinese Xi Jinping vuole rifare l'impero a stavolta mondiale e tutto l'occidente sta ripensando di tornare a produrre a casa sua provando a ricacciare indietro il suo regime comunista ma nel frattempo abbiamo creato un mostro con le nostre stesse mani l'abbiamo messo in casa nostra e se il ritmo di crescita cinese sarà quello dei prossimi vent'anni siamo spacciati però pechino un problema che la popolazione invecchia c'è un progetto e denatalità e anche nello stesso tempo l'occidente invecchia ma tira però ancora giovani e cervelli la cina invece in questo momento li fa scappare ma non è solo questo cari amici perché questa situazione che nei confronti della cina si evacuando ogni giorno di più lascia presagire lascia intravedere sicuramente qualche cosa che ricorda sempre di più un clima di guerra fredda che potrebbe trasformarsi in una guerra prima o poi vera e propria cari amici noi sappiamo che tutto si paga e ogni cosa che si è seminato poi si raccoglierà così com'è ognuno raccoglie dicevano i nostri nonni quello che ha seminato la nostra epoca si contraddistingue in questo momento per questa vedete questa emersione della realtà e della verità che si impone sempre più brutalmente ai nostri occhi nelle sue luci e nelle sue ombre emerge tutto il bene che c'è in questo momento e che comincia a rigogliosamente a germogliare ma emerge anche tutto il marcio tutto il putridume e tutto ciò che in questi anni ha costituito la causa del disastro che stiamo vivendo tanto nella politica quanto nella società civile quanto nelle leggi quanto anche all'interno della nostra chiesa tutti i nodi vengono al pettine tutto emerge nella sua vedete brutale realtà e ci impone in questo momento vedete scelte molto radicali di fronte a cui prendere posizione e schierarci o da una parte o dall'altra sapendo comunque che passeremo cari amici per un percorso di purificazione una grande purificazione necessaria che non esclude nessuno e che in qualche modo purifica le nostre colpe le nostre vedete mancanze di corrispondenza alla grazia i nostri compromessi che in questo momento vedete sono motivo di penitenza e sono motivo di espiazione per ciascuno di noi perché ci preparano se saremo fedeli e se accetteremo le prove che il signore ci manderà ci predispongono ci preparano attraverso questo itinerario per giungere al trionfo del cuore immacolato di maria ma la purificazione è in atto e va accettata pienamente nel compimento della sacrosanta giustizia di dio e a tutti voi cari amici tele radioascoltatori l'augurio di una buona giornata laudetur jesus christus grazie a tutti Grazie a tutti.